Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida Salva Groot alberello dal vivaio di siepi d'agrifoglio. Salvando Groot alberello, ossia il mini Groot, il baby Groot, potete ottenerlo come zaino, quindi come copertura. Dovete arrivare prima di tutto al livello 32 del pass. Dopodiché andate a siepi d'agrifoglio e atterrate qua, bene o male, quindi al vivaio qui. Ovviamente il bus battaglia mi lascia sempre dall'altra parte della mappa, quindi potete usare qualsiasi personaggio. Credo che sia completabile in qualsiasi modalità, però dovete raggiungere il livello 32 del pass, quindi se ci andate prima di allora non trovate assolutamente nulla. Quindi una volta che avete raggiunto il livello 32 del pass potete sbloccare baby Groot, mini Groot, come si suol dire. Dovete andare qui al vivaio di siepi d'agrifoglio. Qui non potete assolutamente sbagliarvi, è molto semplice. Quindi tutto quello che dovete fare è atterrare e interagire con baby Groot, che si trova praticamente qua, dove ci sono queste piante. Se non mi ammazzano ve lo faccio vedere. Qui c'è lo gnomo. Ecco baby Groot, interagite e il gioco è fatto.